Istituire al più presto una commissione d'inchiesta per fare luce sull'emergenza a Abruzzo. È il primo punto del documento che il Movimento 5 Stelle sottoporrà all'attenzione del governo D'Alfonso e della maggioranza PD nel prossimo Consiglio regionale in programma martedì a Pescara, calendarizzato proprio su richiesta dei grillini. Le 200.000 utenze elettriche disalimentate che hanno lasciato a buio a metà gennaio, 600.000 abruzzesi per una settimana sono un fatto gravissimo, dicono i rappresentanti regionali e nazionali del Movimento di Beppe Grillo. E per questo motivo al secondo punto del documento ci sono i risarcimenti ai cittadini. Quelli automatici non sono sufficienti, dice Domenico Pettinari. Quindi noi andremo in Consiglio regionale per impegnare con un documento l'amministrazione regionale a fare cosa? Sicuramente a concertare dei risarcimenti danni con le società dei risarcimenti danni per l'utenza, sicuramente a tornare sui tavoli che già sono istituiti per legge a battere i pugni per potenziare la rete, fare manutenzione e fare investimenti perché ci sono dei tavoli decretati per legge. C'è poi la questione scuole e vulnerabilità sismica. Per il deputato Gianluca Vacca si è arrivati fuori tempo massimo per mettere in sicurezza gli edifici, un problema conosciuto e discusso da anni. Vacca ha criticato Renzi bollando come una promessa elettorale gli 8 miliardi previsti per l'adeguamento delle scuole e D'Alfonso che solo ora ha messo in campo 30 milioni di euro per le analisi tecniche sottovalutando il report presentato proprio dal movimento secondo cui il 70% degli edifici pubblici sarebbe a rischio sismico. I parlamentari abruzzesi dei 5 Stelle hanno annunciato inoltre la richiesta di una commissione parlamentare d'inchiesta che faccia chiarezza sulle eventuali responsabilità di Enel etterna. Non è mancata poi una stoccata al depotenziamento della protezione civile nonostante il governo abbia applaudito al lavoro fatto nell'emergenza e al decreto a sostegno delle popolazioni del centro Italia varato ieri mattina ma non ancora reso ufficiale. I fondi sarebbero pochi e mal distribuiti sia per i redditi bassi che per gli elevatori e mancherebbero misure adeguate per la dilazione dei versamenti delle tasse.